Siamo qui con Gregor, il primo vincitore dei messi di MMA di questa sera. È stato un match, direi, breve ma molto combattuto e molto entusiasmante. Che cosa ti ha fatto scegliere l'MMA? L'MMA è il tipo di sport che mi piace da piccolo, così che questa è la mia vita. Anche prima era, ma questo è ancora meglio. Ma sei partito direttamente con l'MMA oppure hai fatto delle esperienze precedenti? No, ho cominciato un anno fa, ho cominciato, ma mi andava bene anche prima, ho fatto diversi sport, ma sempre i sport puntattivi erano i sport che mi piacevano. Qual è la tua preparazione prima di un match? Niente, come sempre, mi allento ogni giorno. È l'unica cosa, l'allenamento duro, portare i sitati, no? Giusto, giusto. Esperienza nella gabbia, ne hai già avute o era la tua prima volta? E com'è stata? Ma era ottimo, è meglio dei ring, meglio dei banterti, è la cosa migliore che può essere. Ok. Non scappano, non lo sa, lo pare. Ascolta, io ti auguro, insomma, di vederti nei match futuri, anche qui o altrove, e per adesso, insomma, tanti auguri e complimenti. Grazie. Grazie. Grazie.